Ma vogliamo spiegare perché il soprannome è Cubetti di questo provino? Perché il Cubetti, in pratica prima della gara si fa tre seghe. Tre di rito. Tre di rito. Se hai qualche gara importante se ne fa anche quattro. Per la storica quante sono i pronostici? Per la storica sei dovrebbe fare tre.